Benvenuti all'undicesimo capitolo del corso di montaggio video con Adobe Premiere 2019. Sono Fabio Ambrosi e oggi vedremo un argomento molto importante per un montatore video, ovvero come creare una nuova timeline in Adobe Premiere. È un argomento delicato perché se è vero che per creare una timeline servono davvero pochi secondi, è anche vero che tutto inizia da una timeline, quindi crearla nel modo corretto è sicuramente una strada intelligente da seguire per evitare poi di avere problemi durante il montaggio vero e proprio. Oggi vedremo anche quali insidie si nascondono dietro la creazione di una timeline e soprattutto vedremo come evitarle, quindi come farlo nel modo corretto. Prima di iniziare però con la lezione vera e propria, un consiglio, venitemi a trovare sul sito www.fabioambrosi.it perché sul mio sito internet, oltre all'elenco di tutte le lezioni che compongono il corso di montaggio con Premiere, ci sono anche gli articoli legati ad ogni singola lezione. Sono gli articoli dove sintetizzo quello che ci siamo detti durante le video lezioni e soprattutto un luogo molto importante perché se vi siete dimenticati quale combinazione di tasti magari vi permette di fare qualcosa, ecco, trovate tutto sintetizzato e scritto. Spero nella maniera più chiara e sintetica possibile. Inoltre, se volete, potete iscrivervi al canale YouTube di questo corso, al mio canale YouTube in maniera tale da restare sempre aggiornati appena usciranno i capitoli successivi del corso di montaggio. Senza perdere altro tempo, andiamo su Premiere. Eccoci all'interno di Adobe Premiere 2019. Una piccola nota, molti mi scrivono dicendo ho un Premiere più vecchio, ho un Premiere 2018, ho un Premiere 2017, va bene uguale? Sì, per il momento potete utilizzare la versione di Premiere che preferite. Se avete l'ultima versione è meglio, ma diciamo che sostanzialmente l'ultima release stabile è la 2018, la 12.1.2, quindi se utilizzate quella va molto 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 bene. Tranquillamente potete seguire il corso senza alcun problema. Torniamo all'argomento di oggi. Come creare una nuova timeline in Adobe Premiere 2019. Vado abbastanza rapido sulla creazione di una timeline perché di per sé la combinazione di tasti e le strade da seguire per creare una timeline non richiedono particolari precauzioni. Vi dico subito, per esempio, che per creare una nuova timeline è sufficiente andare a cliccare su questo bottoncino qui in basso a destra nel pannello progetto. Questo è un pannello che vi consiglio di memorizzare bene, questo nel pannello progetto perché è il pannello, come detto nelle lezioni precedenti, in cui lavoreremo più spesso in Premiere. Dentro a questo pannello, il pannello appunto progetto, abbiamo un bottone vicino all'icona del cestino che è questo del foglio bianco che abbiamo tra l'altro già visto nelle lezioni precedenti e anche questo è un menu piuttosto importante che vi consiglio di sfruttare perché da qui noi andremo a creare praticamente tutto quello che ci serve per lavorare nel nostro montaggio. In particolare oggi vedremo come creare una nuova sequenza. Qui dal bottoncino in basso a destra, eccolo qui, dove c'è scritto nuovo elemento, non so se si legge nel video, cliccando potete creare tranquillamente una nuova sequenza. Cliccando sulla scritta sequenza comparirà appunto questo nuovo pannello che ci permetterà di configurare la sequenza su cui noi andremo a lavorare quest'oggi. Come dicevo in Premiere esistono tanti modi per fare la stessa cosa, quindi oltre a utilizzare il bottoncino in basso a destra nel pannello progetto potete cliccare nello spazio vuoto del pannello progetto con il tasto destro del mouse e anche qui basterà andare nel sottomenu nuovo elemento e cliccare sequenza. È lo stesso identico procedimento, quindi potete sia cliccare questo bottoncino, eccolo qua, sia cliccare con il tasto destro del mouse in uno spazio vuoto del pannello progetto, andare sul nuovo elemento e scegliere sequenza. Come vedete il procedimento è identico. Però, visto che io sono settimane ormai che vi insegno ad utilizzare la tastiera come metodo preferibile per lavorare con Premiere, è importante anche sapere qual è la combinazione di tasti sulla nostra tastiera che ci permette di creare una nuova timeline. Bene, la combinazione di tasti da premere per creare una nuova timeline è CTRL N. Premendo sulla tastiera i tasti CTRL ed N, come vedete, compare la stessa identica finestra che ci permette di creare una nuova sequenza. Esiste un altro modo per creare una sequenza? Assolutamente sì, Premiere non ha problemi in quanto ha strategie per creare nuovi elementi, e basta cliccare su file nuovo e andare a cercare sequenza. Come potete vedere anche qui, ecco, questo metodo ci porta esattamente allo stesso punto, ovvero a questa finestra che è un po' il cuore della creazione di una nuova sequenza in Adobe Premiere. Quindi, come avete visto, i modi per creare una sequenza sono tanti. Scegliete quello che preferite. Io personalmente consiglio sempre di utilizzare la tastiera, quindi CTRL N, però, insomma, nessuno mi vieta di lavorare come preferite. Oh, questa è una finestra molto importante, perché noi qui sostanzialmente andremo ad informare Premiere sul tipo di sequenza che noi vogliamo creare. Come ho detto nei primi tutorial, quelli teorici, quando vi dicevo seguite questi tutorial, perché sono importanti, perché ce li ritroveremo durante il corso. Ecco, come dicevo, in quei tutorial, un video, una clip video, in generale un oggetto multimediale, sostanzialmente ha delle caratteristiche più o meno comuni, vale a dire la grandezza del fotogramma, chiamata anche risoluzione del fotogramma, risoluzione del video, il numero di fotogrammi per secondo e il tipo di scansione, progressivo o interlacciato. Abbiamo visto nei primi tutorial del corso che cosa significano queste parole, quindi se siete capitati su questo tutorial di punto in bianco e volete approfondire quell'argomento teorico, recuperate i primi video di questo corso e lì troverete degli approfondimenti in merito alla risoluzione, ai fotogrammi per secondo e alla scansione. Oggi metteremo in pratica queste conoscenze teoriche nella creazione di una timeline. Come dicevo, creare una timeline è semplice. Molti montatori, molte persone che magari già montano potrebbero dirmi che ci vuole creare una timeline. Clicchi, crei la timeline e lavori. In realtà, a seconda del lavoro che dobbiamo fare, dobbiamo informare Premiere delle caratteristiche che deve avere la nostra timeline. In particolare, dobbiamo dire a Premiere che risoluzione stiamo adoperando, con quale risoluzione vogliamo creare il nostro contenuto multimediale. Dobbiamo informare Premiere del numero di fotogrammi per secondo che il nostro video avrà, e anche quindi di conseguenza la nostra timeline avrà, e della scansione che intendiamo adoperare nella creazione del nostro contenuto multimediale. Quindi dovremo dire a Premiere se lavoriamo in progressivo o interlacciato. Tutte queste informazioni le andiamo ad inserire in questa finestra, la finestra appunto della nuova sequenza. Innanzitutto, date sempre un nome chiaro alla vostra sequenza. Perché vi dico questo? Perché quando lavorerete a progetti molto grandi, quando non avrete a che fare solo con una sequenza, ma avrete a che fare con, non dico decine, ma almeno due o tre sequenze, è utile a colpo d'occhio sapere che tipo di materiale è contenuto in quella sequenza, quindi che sequenza state adoperando. Teoricamente potete dare il nome che volete, quindi per esempio possiamo chiamarla prima sequenza. Ma, ripeto, l'organizzazione del lavoro sta a voi, e il mio consiglio, come già detto, è quello di essere il più ordinati possibile. Detto questo, quindi dato un nome alla nostra sequenza, abbiamo dei preset nella nostra colonnina di sinistra. Come vedete questa finestra è divisa in due parti. Nella colonna di sinistra abbiamo un lungo elenco di preset tra cui scegliere, e sulla destra una sintesi delle caratteristiche che il preset selezionato fornisce alla nostra timeline. Senza perdere troppo tempo per quelli più frettolosi che vogliono avere tutto subito e pronto, io il mio consiglio è, per adesso, quello di utilizzare il preset XD Cam EX 1080p per progressivo, 25 fotogrammi al secondo. Questo tipo di sequenza, questo tipo di preset, creerà una timeline che appunto ha una dimensione del fotogramma di 1920 pixel in orizzontale, 1080 pixel in verticale. Attenzione a questo 1 vicino a queste due scritte, tra poco vedremo quanto è importante. Dicevo, frequenza dei fotogrammi a 25 fotogrammi per secondo e una proporzione del pixel quadrata, pixel quadrati, anche questo è molto importante e ha a che fare con questo 1 che abbiamo visto sopra, e i campi, nessun campo, quindi la scansione è progressiva. Ok? Questo per quanto riguarda il video. Per quanto riguarda l'audio, questo preset, ha un audio abbastanza, diciamo, classico, quindi creerà automaticamente tre tracce audio e per il momento ignoriamolo. Torneremo sull'argomento audio un po' più avanti nel corso di questo corso. Quindi abbiamo detto, questo tipo di preset va già piuttosto bene. Ok? Lavoreremo anche con altri preset e ne parleremo più tardi. Per il momento clicchiamo ok e come potete vedere Premiere crea un nuovo elemento che mi chiamerà prima sequenza e sostanzialmente è lo spazio dentro cui noi andremo a lavorare i nostri contenuti multimediali per creare il nostro filmato. Wow! Tutto bello, tutto semplice. No, non proprio. Perché non proprio? Perché noi abbiamo creato una sequenza nella maniera corretta, vale a dire, ipotizzando di voler creare un contenuto multimediale per il web volendo lavorare sempre alla massima risoluzione possibile quindi in HD 1920x1080, progressivo 25 fotogrammi per secondo perché ricordo che siamo in Italia teoricamente è tutto in ordine. Ma ipotizziamo che noi volessimo creare un contenuto multimediale per Facebook o per i cellulari. Avete presente quando navigando con il cellulare vi trovate di fronte dei video cosiddetti verticali vale a dire che prendono tutto lo spazio del nostro dispositivo mobile. Bene, questi video chiaramente sono video particolari, no? Perché non hanno 1900 fotogrammi sì, 1900 pixel in orizzontale e 1080 pixel in verticale ma hanno esattamente una situazione capovolta ovvero hanno 1080 pixel in orizzontale e 1900 pixel in verticale. Ve lo spiego subito con un esempio. Allora, ho creato per voi una sequenza già con un'immagine dentro. È una fotografia scattata dal mio collega e amico Roberto Evangelista grandissimo operatore ragazzo molto in gamba che appunto scattò questa fotografia a Poppi in provincia di Arezzo. Ok? Io ho preso questa fotografia e l'ho messa nella timeline nella prima timeline su cui stiamo lavorando appunto una timeline di prova. È simile ed è identica a quella che abbiamo appena creato noi. Quindi 1920x1080 scansione progressiva 25 fotogrammi per secondo ed è tutto in ordine. Ma se io volessi creare un video per esempio per i cellulari ok? Quindi volessi un video cosiddetto verticale ecco quello che dovrei avere. Dovrei avere un video sostanzialmente con le dimensioni capovolte vale a dire 1080 pixel in orizzontale e 1920 pixel in verticale. chiaramente poi andremo a lo vedremo più avanti nel corso a posizionare correttamente la fotografia all'interno di questo frame e questa non è altro che una fotografia verticale un contenuto multimediale verticale che sui nostri cellulari apparirà bello per esteso senza dover poi capovolgere il nostro cellulare. Oppure ancora ipotizziamo di voler creare dei contenuti per Instagram dove spesso i video e le fotografie sono quadrati. Bene, ho creato un contenuto quadrato che potrebbe andare bene per Instagram. Come ho fatto? Ho detto a Premiere creami sempre una timeline creala sempre con 25 fotogrammi per secondo creami una timeline sempre a scansione progressiva perché ricordo che per il web e per i monitor dei computer e dei cellulari la scansione progressiva è sempre da preferire però le dimensioni del fotogramma cambia le creami un fotogramma quadrato. Immaginate il fotogramma come la cornice di un quadro ok? Il fotogramma è il quadro quindi la cornice che contiene il nostro materiale multimediale. Questo quadro può avere delle dimensioni più disparate no? Ecco, la dimensione del fotogramma la risoluzione quindi la dimensione del fotogramma che noi andiamo ad indicare a Premiere ci permette di creare la cornice che vogliamo in questo caso una cornice quadrata che va benissimo per esempio su Instagram o quando abbiamo creato una timeline lo rifacciamo CTRL N vi ho detto di prestare attenzione a questo numerino a questo 1 vicino alla scritta 1920x1080 e vi ho detto anche di prestare molta attenzione alla scritta proporzioni pixel ok? e in questo caso di default sono quadrati vale a dire un pixel è un pixel quadrato non entro troppo nei dettagli per adesso perché è importante questa informazione? perché se quando andiamo a creare una timeline scegliamo un preset sbagliato o come vedremo nella prossima lezione imposteremo dei settaggi custom quindi personalizzati in maniera errata rischiamo di avere un problema simile a questo questa 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 timeline è una timeline a 1920x1080 voi direte no non è possibile la timeline 1920x1080 è questa è un bel rettangolo e non è l'immagine dentro non è deformata eppure io vi garantisco che questa timeline è 1920x1080 in orizzontale e 1080x1080 in verticale qual è il problema? senza voler scendere troppo nei dettagli il problema è proprio nella dimensione nella proporzione dei pixel ora veramente non entro nei dettagli perché questa è un argomento che probabilmente richiederebbe una lezione a parte però per il momento rimando un'ulteriore spiegazione alla prossima lezione sappiate che quell'uno che avete visto scritto a fianco alla grandezza del fotogramma e nella proporzione pixel in questa riga è importante perché come standard quindi come convenzione quando creiamo un materiale multimediale in HD che sia per la televisione o che sia per il web o che sia per quello che volete per convenzione salvo casi particolari la proporzione del pixel deve essere quadrata quindi uguale ad 1 ok? per il momento sappiate questo sappiate che il preset da preferire per creare un contenuto in HD 1920x1080 25 fotogrammi per secondo progressivo è questo xdcam e x potete scegliere anche di lavorare in interlacciato questa i vicino al 1080 indica che questa è una timeline sono preset di timeline interlacciate ok? non mi addentro oltre così come potete scegliere di lavorare a 720p vale a dire 1080x720 vedete la sintesi è sempre scritta qui a destra ecco di default io consiglio di lavorare salvo eccezionali casi di lavorare con il preset xdcam e x 1080p e sostanzialmente preferite i 25 fotogrammi per secondo ok? e cliccate ok dopo aver dato il nome nella prossima lezione vedremo come personalizzare ulteriormente la timeline per creare appunto un video verticale un video quadrato e soprattutto qual è quella famosa impostazione dei pixel delle proporzioni dei pixel da settare nella maniera corretta per evitare delle deformazioni simili a questa iscrivetevi al mio canale youtube per restare aggiornati sull'uscita delle prossime lezioni venite a trovarmi sulla mia pagina facebook cercate fabio ambrosi c'è una f e una a bruttissima tra l'altro cambierò presto prometto cercatemi anche sul sito internet www.fabioambrosi.it perché lì ci sono tutti i tutorial elenco di tutti i tutorial e i relativi articoli alla prossima lezione grazie a tutti Grazie.